L'ho conosciuta sia agli inizi della sua carriera sfolgorante e l'ho rivista con piacere dopo il successo di Almeno tu nell'universo. E Mimi era completamente cambiata, era una donna che aveva una luce nello sguardo piena di entusiasmo, di curiosità. Abbracciava tutti, aveva come un bisogno fisico quasi di ritoccare con le mani l'ambiente che forse per tanto tempo ingiustamente l'aveva messa da parte. Era come Alice nel Paese delle Meraviglie, cioè riabbracciare il suo pubblico, ritrovare le persone che per anni non aveva visto. Ecco, io vorrei che nel cuore mi rimanesse sempre la luce di quello sguardo di quando venne ospite da me in Via Teulada 66 proprio a cantare questo successo.